Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questo appuntamento per la rubrica sull'utilizzo dei video e degli audio nell'apprendimento. Video e audio sono sempre più importanti e occorre apprendere l'uso di molte applicazioni che possono permetterci di migliorare sia dal lato dell'insegnamento che da quello dell'apprendimento la qualità del nostro percorso formativo e dei nostri studenti. Vediamo in questo appuntamento, sembra lo spirito della bottega didattica del fai da te nell'apprendimento e nell'uso delle tecnologie dell'apprendimento, presenterò un'applicazione, Premium, per creare e gestire una sorta di radio web, si chiama Spreaker e consente anche di trasmettere in diretta come una vera e propria radio, quindi possiamo sia registrare, che registrare e trasmettere in diretta, che archiviare dei file audio che abbiamo precedentemente registrato in formato vp3, abbiamo a disposizione delle statistiche, e abbiamo anche altri strumenti, per esempio abbiamo le app per i dispositivi mobili, da cui possiamo sia registrare che ascoltare i vari podcast registrati e pubblicati su Spreaker. L'account free ci consente di registrare per 5 ore, teniamo presente che per quello che può interessare un utilizzo didattico, una trasmissione, un episodio, come viene chiamato, dura pochi minuti, e quindi insomma è uno spazio abbastanza significativo. È disponibile una chat e soprattutto si tratta di un'applicazione che è tradotta anche in italiano e questo è molto comodo. Come già detto per il caso di Podomatic, anche Spreaker ha delle potenzialità considerevoli e in quanto con Spreaker possiamo fare tutto quello che possiamo fare con la voce, quindi è molto versatile. Quindi utilizzi in ambito didattico, li riepilogo brevemente in questo elenco, poi la presentazione la linkerò nel box descrittivo del video su YouTube. Dicevo, dallo storytelling, quindi il racconto, l'intervista, l'intervista impossibile, il dialogo, il dialogo immaginario tra studenti che interpretano due personaggi immaginari, il giocare sulle opere, per esempio su un racconto immaginando finali o prologhi differenti, alternativi, o partire da un racconto per lo spin-off, quindi fare la storia, fare un nuovo racconto basato su un personaggio secondario che diventa protagonista del nuovo racconto. Poi abbiamo la possibilità di pubblicare risorse, dei contenuti didattici, lezioni registrate, per esempio audio appunti, audio riassunti magari realizzati dagli studenti, discussioni che si sono svolte in aula, possiamo inviare dei messaggi agli studenti, ai genitori, possiamo inviare dei feedback agli studenti sulle loro prove e le loro verifiche, la radio cronaca di eventi, eventi interni alla classe, eventi che caratterizzano la vita dell'istituto, eventi che caratterizzano la vita della comunità nella quale l'istituto è insediato, oppure esperienze didattiche, uscite didattiche, insomma tutto ciò che può rientrare nell'attività formativa della classe, di un gruppo di lavoro, di un gruppo di classi e che può permettere di documentarla. E poi abbiamo la recitazione, gli studenti, l'audio è importante perché è importante sia imparare ad ascoltare che padroneggiare la propria voce e quindi la recitazione, recitazione di poesie, recitazione, anzi il canto, radiodrammi magari creati dagli stessi alunni o interpretati dagli studenti, oppure la biografia, l'autobiografia, la presentazione dello studente e così via. E poi il giornalismo, per esempio un reportage, per esempio un'intervista, per esempio un talk, quindi una discussione, un radio talk, un finto giornale radio o magari un giornale radio che verte su temi di attualità e che viene sviluppato dagli studenti o che riguarda la vita dell'istituto e così via. Bene, tante altre cose ancora, andiamo avanti e vediamo alcune indicazioni interessanti perché si tratta di uno strumento, come dicevo, molto versatile, abbastanza semplice e su cui molti hanno già fatto esperienza, quindi qui troverete dei link come questi due, questi due, chiedo scusa, che mostrano degli esempi di un uso fatto nelle scuole, istituti comprensivi, allunni anche molto piccoli, delle elementari, ecco degli esempi di attività svolte, didattiche svolte con Spreaker. Poi abbiamo un bel webinar di Palo Aghemo o sull'uso della radio web a scuola e poi dei link utili, piani di abbonamento per ampliare le ore di trasmissione, per esempio, con lo spazio in cui possiamo archiviare Notifale MP3 e il link al podcast, all'applicazione per dispositivi mobili, sia iOS che Android e anche un'applicazione che si chiama Spreaker Studio che ci permette di registrare dal nostro smartphone e di trasmettere dal nostro smartphone. Bene, è il momento di andare a vedere Spreaker, digitiamo Spreaker su YouTube, la K è il primo risultato, è quello che ci interessa, per registrarci, vedete tutto in italiano, per registrarci clicchiamo su registrati e dovremo compilare questo modulo e selezionare la casella Non sono un robot, quindi ci verrà inviata una mail nel nostro account di posta elettronica e dovremo, per attivare la nostra registrazione dell'effettiva, cliccare sul link inviatoci. Bene, io torno su Spreaker e mi logo, perché mi sono già registrato, ecco qua. Bene, adesso andiamo a vedere come impostare alcuni parametri e poi l'operazione principale, dunque, vado su mio profilo e questo è esattamente quanto vedranno i visitatori della mia radio, il mio profilo, gli episodi che ho pubblicato, sono due episodi che ho pubblicato per fare delle prove. Bene, andiamo su impostazioni adesso, qui appunto metterò il mio nome completo, posso caricare una fotografia, una breve indicazione biografica e altre informazioni che non sono essenziali e che sono abbastanza semplici, il nostro account per esempio Twitter, il nostro account e la nostra mail, se la vogliamo mettere, eccetera. Vedete che qui abbiamo un menu piuttosto complicato, se voglio per esempio cambiare la mail, vado qui e cambierò la mail, posso avere più di una mail, se voglio cambiare password, eccetera. Qui posso configurare le notifiche via mail, se non voglio notifiche, cancello tutto, comunque, caso per caso, poi in italiano è abbastanza semplice, mi si avvisa di determinate attività, per esempio, speaker mi può inviare dei consigli, può calcolare le mie statistiche e inviarmi una mail, può dirmi se è qualcuno che seguo o sta smettendo, eccetera. Torniamo al mio profilo e vediamo di esaminarlo. Oltre al mio profilo, agli episodi, abbiamo anche le persone che mi seguono, nessuno, e le persone che io seguo, qui ho messo due a caso per mostrarle, quindi sono follower following, anche qui come in tutti i social. Spreaker, come in tutti gli altri social, ha una sua, come dire, grammatica, una sua impostazione, che è praticamente la stessa di tutti gli altri. Bene, vediamo adesso l'operazione più interessante, cioè la creazione del mio canale. Prima di tutto posso limitarmi a caricare, per esempio, ho dato dei lavori agli studenti, li carico sulla radio che gestisco io, o faccio gestire questa radio, questa web radio realizzata con Spreaker da due, tre ragazzi, ragazze, tra i più svegli e tra i più interessati, non importa, dovrò caricare e, appunto, dal mio computer andrò a caricare un file, cliccando nuovamente su questo pulsante giallo. Qui cerco il file, io ho messo qualcosa, ecco, Cristina D'Avena e tre porcellini, e anche qui che cosa dovrò fare? Dovrò dare un titolo, posso lasciare questo, oppure posso modificarlo, per esempio, i tre porcellini, scriviamolo così, e posso dare una descrizione, qui posso inserire la descrizione, può essere importante perché do informazioni agli utenti o ai miei studenti su che cosa c'è in quel file, quindi inserimento della descrizione. Qui inserirò dei tag, la virgola, che sono utili per il web semantico perché sono le etichette che io attacco a questo file a questo episodio e che lo caratterizzano, che ne indicano determinate caratteristiche e proprietà. Bene, a questo punto posso anche abilitare il download, se voglio che i miei studenti, per esempio, possono scaricare e ascoltare questo file, abiliterò il download e quindi a questo punto pubblicherò. Ecco qua, l'episodio è stato pubblicato, andiamo a vedere, lo vediamo qui, l'autore è Gianfranco Marini, posso cliccare e partirà. Ecco qua, Cristina D'Avera che canta i tre porcellini, abbiamo i like, la possibilità di condividere, mi piace, abbiamo la possibilità di commentare e quindi anche di innescare una piccola discussione, posso poi vedere le statistiche, modificare, per esempio se clicco qui, vedete, posso modificare il titolo o per esempio posso inserire un'immagine, per esempio clicco su carica e inserisco un'immagine qualsiasi, adesso prendiamo, queste sono enormi, si propone di ritagliarla, posso spostare perché mi interessa magari più questo lato, ed ecco fatto, una volta terminato salvo, posso anche per esempio rendere privato, non voglio che sia pubblico, voglio che lo ascoltino solo coloro che hanno i link, diventa privato, salvo e di nuovo vado a verificare le modifiche, ecco qua, qui non appare l'immagine che ho caricato, ma se vado su episodi vedete i tre porcellini, mi dà la durata, la data di caricamento, posso cancellare da qui, se sono logato ovviamente, qui mi avvisa del fatto che mi rimangono, vedete, ancora 4 ore circa, che ho pubblicato per un totale di circa 47 minuti, più 22 nella mia libreria musicale, vedremo dopo cos'è la libreria musicale in un altro video tutorial, perché abbiamo qui visto come funziona il caricamento di un file mp3, rimane da vedere come è possibile trasmettere in diretta, se questa opzione ci sembra troppo complessa o inattuabile, possiamo anche rinunciarvi, tuttavia in una seconda parte di questo video tutorial, mostrerò come funziona la trasmissione, dimenticavo, vedete qui questo lettore veloce, mi dà la possibilità di regolare il volume, di condividere nei social, più importanti il mio episodio, è di passare da un episodio all'altro, bene, vi ringrazio, vi saluto, vi saluto anche la mia finestra e ci sentiamo nella seconda parte.